come saprete un po tutti ormai visto che questa notizia me l'avete data in molti su instagram questo ragazzo che si chiamava daniele pozzi è morto ieri mattina o comunque nella notte tra domenica e lunedì a padova nella sua camera del bnb perché aveva partecipato ad alcune gare della yamamoto cup e in quest'articolo che del giorno lui è un ragazzo di varese mi sembra di capire dice che la morte è stata scoperta dalla fidanzata e dice anche che non si sanno ancora le cause determinanti della sua morte anche se mi sembra di aver capito che si tratti di arresto cardiaco questo non voglio dire stupidaggini però guardando un po questa è l'ipotesi più accreditata e comunque dice che daniele si trovava in vento per partecipare a yamamoto cup e lui ha partecipato credo alle gare amatoriali e ne ha vinte anche alcune tra cui la novice la novice quella dei novizi comunque della open e poi penso che abbia fatto anche qualche gara men's physique perché ho visto che c'erano alcune foto di lui con i bermuda e quindi dice un po quest'articolo e dice che ha conosciuto l'ambiente del bodybuilding adesso io ovviamente non ne so niente perché a parte il fatto che sto a cagliari e non frequentando il resto del mondo a parte cagliari non ne ho idea e poi comunque non era un professionista comunque dice che ha molto conosciuto l'ambiente del bodybuilding e faceva il personal trainer a quanto pare poi su facebook c'era scritto tipo sicurezza qui probabilmente faceva anche la guardia giurata lo butta fuori adesso non lo so non voglio neanche dire stupidaggini e poi dice che aveva un passato dal lanciatore di martello però il suo il suo sogno era quello di diventare un bodybuilder professionista chiaramente non so se sia il sogno di tanti però non dico che sia difficile perché ormai le pro card le danno tipo caramelle però solo il fatto di essere un bodybuilder professionista non significa essere un ottimo bodybuilder perché a differenza degli anni 90 inizioni 2000 quando i pro card ne davano davvero una manciata all'anno adesso non danno davvero molte quindi probabilmente cioè non probabilmente magari ce l'avrebbe anche fatta a diventare un pro poi in questo articolo del luffington post dice l'allenatore del bodybuilder che si chiama teo martinez io non so chi sia non so sia famoso dice prendeva cose che fanno male al cuore allora io adesso penso che quando persone così giovani muoiono per arresti cardiaci e cose del genere penso che ci sia un po di predisposizione genetica o familiarità poi il fatto che la persona possa prendere cose tra virgolette che fanno male al cuore penso che possa aggravare o velocizzare questa situazione preesistente però io penso in genere che quando succedono queste cose ci sia una familiarità o una predisposizione poi dice gira la voce che daniele pozzi culturista mediterranei trattato morto di bambini paolo va ci andasse pesante e lo dice il suo allenatore adesso io non voglio di commentare il fatto che un allenatore dica cosa del genere però chi ha orecchie per intendere intenda e dice prendeva cose che possono fermare al cuore e poi prosegue dice a quanto pare ha riferito al mattino di padova io avevo iniziato ad allenarlo solo quattro settimane fa ma c'era la voce che c'era se pesante è andato avanti a carboidrati zero per tanto tempo e poi prendeva cose che possono fare male al cuore si insomma prodotti vari sta dicendo che prendevano abolizzanti gli chiedono martin si risponde posso dire soltanto che stavo provando trovare la via giusta per indirizzarlo per farlo allenare in un modo nuovo per rompere con il passato mi aveva mi aveva avvisato di fare attenzione adesso chiaramente hai alle gare di bodybuilding un natural non ci sta a fare un cazzo eh a meno che non sia nel pubblico guardarsi la gara contando anche che nel nei contest natural di natural non ce ne sono quindi adesso non per fare per criticare niente nessuno io non mi doperei mai però non mi interessa vedere neanche un bodybuilding natural perché il bodybuilding è un è uno spettacolo per come lo vedo io e tutti vogliamo vedere i mostri sul palco di vedere un tipo che pesa 60 kg definito e senza muscoli non ce ne frega niente obiettivamente obiettivamente è così e anche le persone che sono stupide secondo me che criticano i bodybuilder ma questo è gonfio questo tra cinque anni muore il bravo il suo farmacista ma la chimica ah 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 questo non c'è il pisello che poi alla fine il pisello resta uguale la gente non ha capito questo sono i testicoli che si atrofizzano perché il testosterone viene introdotto artificialmente nel corpo e quindi i testicoli smettono di produrre testosterone e si atrofizzano quindi adesso pur io non dopandomi non me ne sbatte niente se una persona si dopa e anzi di sicuro ho più interesse a vedermi un contest di bodybuilding di dopati piuttosto che uno di natural obiettivamente perché uno spettacolo è come dire che uno va a vedersi la formula 1 però dicono no no ragazzi è troppo pericoloso andare a 300 chilometri all'ora andiamo a 70 e girano le pande e la pigedda la pigedda la pigedda è l'ape la moto carrozzella tre ruote a cagliari si chiama pigedda cioè ai occhi cazzo vuole vedersi queste cose la gente che vuole vedere certi sport o manifestazioni o discipline estreme vuole vederle in maniera estrema così come vogliamo andare a vedere i film al cinema con i palazzi che esplodono gli elicotteri che prendono fuoco o gente che salta da un grattacielo e si aggrappa a una a una gru cioè tutti vogliamo vedere le cose in grande quindi la gente non è obbligata ad oparsi non è obbligata a partecipare a gare non è obbligata a fare niente in generale e chi guarda le gare chi guarda chi guarda gli expo chi guarda i miei video anche o chi guarda video di bodybuilding non è obbligata a guardarli non è obbligata a commentare non è obbligata a mettere il like o il dislike non è obbligata a dire questo c'ha le palle piccole così e cosa nessuno obbliga nessuno a fare niente le persone i bodybuilder non sono obbligati a nessuno ad oparsi o gareggiare i gli allenatori non obbligano nessuno ad oparsi o gareggiare e nessuno obbliga nessuna persona a seguire il bodybuilding se non vi piace o allenarsi o andare in palestra è un mondo libero e io penso che ognuno possa fare il cazzo che vuole quindi questa è una digressione però penso che molti di voi condividerete questa mia riflessione comunque dice continuiamo quest'articolo poi dice prima di martinez pozzi era stato allenato da altre persone guardi lasciamo stare sono distrutto questa notizia mi ha davvero scioccato dice allenatore lui si è fermato una notte ancora era con la fidanzata mi hanno salutato so che devo andare a cena vabbè comunque e questo è il profilo di daniele e dice ormai già in memoria di daniele pozzi e nelle informazioni dice agente di sicurezza e poi faceva anche l'istruttore in questa palestra e questa è una foto che ha postato lui il 22 cioè domenica credo che sia una gara che ha vinto nella sezione novice si è top 5 novice padova yamamoto pro cup e lui era anche dire abbastanza buono tra questi questo po io sono non ho più pali idea di come sia andata questa gara questo ragazzo mi sembra buono lo stesso delle ottime gambe forse migliori rispetto a daniele però di sopra davvero molto buono dei bei deltoidi forse un po troppo grande rispetto al petto però diciamo mi sembra un buon bodybuilder poi voi saprete che nelle gare così amatoriali i bodybuilder questi ragazzi che partecipano pagano per partecipare e non vincono un cazzo quindi è davvero una cosa fatta per passione però vedendo altre foto almeno vecchie questo penso che sia lui non lo so di sicuro è migliorata molto la definizione quindi magari avrebbe fatto bene chi lo sa e questi sono tutti i commenti delle persone adesso non ho voglia di di leggerli comunque questa persona dice di fronte al morto di un ragazzo mediterraneo c'è poco a discutere occorre solo rispetto per lui per sua famiglia per sua madre chiaramente do ragione a questa persona non penso nemmeno che sia intelligente prendersela con una persona perché si dopo perché non si dopo comunque ho già spiegato in abbondanza come la penso e questa è la foto non so se questo sia il suo allenatore comunque peccato perché ovviamente è morto un ragazzo giovane peccato che sia morto dopo aver fatto bene comunque perché magari avrebbe davvero potuto avere un futuro non dico il bodybuilding però magari avrebbe davvero potuto vincere la pro card anche se come ho detto ne danno in abbondanza e non vuol dire fare carriera perché come ben sappiamo bodybuilder che vivono di bodybuilder c'è di bodybuilding ce ne sono davvero una manciata al mondo comunque spero che non scriviate troppe idiozie tra i commenti perché come ho detto non siete obbligati buona